Benvenuto su Febbre da Gossip, prima di condividere i dettagli di questa grave perdita. Ti chiediamo gentilmente di darci il tuo supporto lasciando un like al video e iscrivendoti al nostro canale. È un gesto che apprezziamo enormemente. È venuto a mancare Carlo Tommasoni all'età di 92 anni. Carlo Tommasoni, conosciuto come Carletto Carlo, è stato un noto personaggio riminese nel mondo dello spettacolo. Da ricordare la sua memorabile interpretazione nel film Rimini Rimini diretto dal regista Corbucci, in cui recitò accanto a attori come Laura Antonelli, Silvia Coscina e Gerry Calà. Tommasoni è stato un eccezionale interprete all'interno della compagnia dialettale e del teatro rinascimentale guidata dal regista Guido Lucchini. Insieme, hanno calcato per decenni i palcoscenici della Romagna. Tra i suoi ruoli più celebri, possiamo menzionare quello del funambolo stregone nella commedia La sonambula, e quello dell'assessore comunale Evaristone e Bamboz. L'ultimo saluto a Carlo sarà giovedì 31 agosto alle ore 10 presso la parrocchia di San Raffaele Arcangelo.